Oh eccoci di nuovo ragazzi in questo video fatto direttamente dal cellulare, eccoci di nuovo sul canale da Animaggio come potete ben vedere sono qua per un unboxing oggi e per farvi vedere degli acquisti che ho fatto su Amazon tutti gli acquisti che ho fatto su Amazon, allora innanzitutto vedete che è uscito mi sembra il 4 agosto, oggi è 6 è uscito RAR Replay, una collezione di giochi per Xbox 360 della RAR appunto che è uscita per Xbox One sto installando il gioco quindi l'unboxing l'ho già fatto, nel senso il gioco l'ho già aperto anche se l'ho appena aperto scusate il casino totale che c'è qui e vi vado a far vedere quindi gli ultimi acquisti da Amazon che ho fatto scusate appunto il bordello, allora gli acquisti sono, un attimo, scusate ho dovuto interrompere il video stavo dicendo gli acquisti sono 3, scusate il bordello incredibile, allora appunto RAR Replay che c'è proprio solo il disco di gioco e appunto vedete è nella console perché sto installando volevo giocarci ma mi sa che devo uscire, cioè devo uscire quindi mi sa che ci giocherò stasera o forse domani c'è scritto che alcuni giochi sono in inglese, 30 giochi mitici e una raccolta epica solo su Xbox One, alcuni giochi tra i quali Benjo Kazooie, insomma mondi entusiasmanti, personaggi memorabili, divertimento indimenticabile riscopri 30 giochi con RAR Replay, questi sono alcuni dei giochi tra cui anche Perfect Dark 0 che non ho mai giocato su 360, anche se del 360 ce l'avevo va bene, comunque non dilunghiamoci, andiamo a vedere il secondo acquisto il secondo acquisto è questa fantastica cover, cioè almeno a me piace un sacco per il mio Galaxy S4 cover appunto che riprende il joypad della Playstation 4 veramente molto molto figo prezzo di 12,90€ più la spedizione perché questo non è spedito direttamente da Amazon ma da una ditta che ha sede in Inghilterra, quindi l'ho pagato 19,90€ quindi questo 19,90€, RAR Replay 29,90€ e poi a 18,90€ l'edizione in Blu-ray dell'ultimo Hobbit che mi mancava perché come potete ben vedere ho sia il primo che il secondo in Blu-ray questo qua mi mancava e non l'ho ancora visto l'Hobbit, la battaglia delle 5 armate due dischi Blu-ray 3D più due dischi Blu-ray più copia digitale pesa un casino questo Blu-ray qua vado ad aprirlo ok, quindi sono andato a aprire questo Blu-ray non riesco a filmare ragazzi col cellulare allora, vado ad aprire la confezione in Blu-ray di questo Lobbit vedete che ci sono oltre alla copia digitale che spero non siate riusciti a vedere il codice se non me la fottete il disco 1 disco 1 che dovrebbe essere il film in Blu-ray il disco 2 poi questo qua cos'è? vabbè insomma, uno cioè due sono due Blu-ray 3D io avrei messo ancora qualche CD qua dentro pesa veramente un casino vedete sono uno, due, tre, quattro CD quattro CD più la copia digitale appunto come c'è scritto sulla copertina due dischi Blu-ray 3D più due dischi Blu-ray più copia digitale penso ci sia sia il film l'epica conclusione della trilogia dell'Hobbit scusate se fuori fuoco il telefono dicevo che ci sono dovrebbe esserci sia quindi contenuti speciali in Blu-ray normali il film in Blu-ray normale il film Blu-ray 3D i contenuti speciali in 3D e la copia digitale insomma praticamente c'è due volte la copia del film se non vado errato sì appunto come pensavo c'è praticamente la vedete che c'è scritto include se non si vede un cazzo scusate mettiamo l'autofocus vediamo se si regola ok allora vedete include una copia digitale nuova e migliorata e poi dice che appunto c'è anche incluso il disco Blu-ray con la versione 2D del film visibile su qualsiasi lettore Blu-ray e poi c'è ovviamente il lettore Blu-ray 3D avendo preso la TV 4K riuscirò a vedere questo film in 3D sarà sicuramente un 3D molto molto bello ho visto anche Man in Black 3 in 3D e devo dire che merita un sacco tra un po' si vede meglio sulla mia TV a casa che non al cinema comunque ragazzi questo era un unboxing molto rapido anche se purtroppo non ho potuto far vedere in diretta che scartavo perché ho dovuto fare questo video direttamente dal cellulare per motivi di tempo ci ritroviamo presto sul canale Danimaggio quindi rimanete sintonizzati per tantissimi nuovi video ci ritroviamo presto ciao a tutti ciao a tutti